Siamo con Guglielmo Bacci, allenatore della Torre, si è tornato a Sassari, mister innanzitutto, che tipo di ambiente hai trovato rispetto all'ultima volta? Ancora io ci devo mettere piede a Sassari perché siamo stati in ritiro 17 giorni a Tergu, oggi siamo rientrati, abbiamo lasciato il ritiro, siamo arrivati a Sassari, per cui felici della destinazione e ci apprestiamo a continuare questo ritiro, adesso la prima fase l'abbiamo terminata, adesso il 16 riprenderemo la seconda fase del ritiro. Che indicazioni hai tratto da queste settimane di preparazione? Avete giocato diverse amichevole, abbiamo visto? Sì, sono contento, come ho già detto, del lavoro fatto fino ad oggi, sono contento del comportamento della squadra, sia per quanto riguarda l'abnegazione che hanno dimostrato durante gli allenamenti, che sono stati tanti e tosti. Sono contento di come si sono messi in campo perché sono molto affaticati e pieni di lavoro, per cui questi due giorni li faranno bene a livello soprattutto mentale e fisico, poi ci ritroveremo il 16 alle ore 17 allo stadio per riprendere la seconda fase. Ecco, mister, la società sta lavorando per completare l'organico, vi manca probabilmente un altro giocatore davanti di peso insieme a Luca Carboni, no? Sì, lo sappiamo, per cui stiamo aspettando, adesso quando la società avrà ottenuto il transfert, nel senso che avrà centrato l'obiettivo giusto, la punta giusta che fa per noi, sicuramente la prenderemo, perché se devo prendere un giocatore qualsiasi non lo voglio, voglio un giocatore che veramente possa servire alla nostra causa. Certo, ecco, che caratteristiche deve avere questo giocatore a punto di vista della... Beh, sicuramente un appunto importante, deve essere un appunto importante che abbia un curriculum all'altezza della situazione, ma soprattutto, soprattutto, che faccia il caso nostro, nel senso che deve essere un giocatore con certe caratteristiche forti. Quindi più una prima punta? No, deve essere un'ottima punta. Ok, ascolti, invece per quanto riguarda il discorso di furicuota, ovviamente è molto importante serie di avere un certo ricambio dei ragazzi che lì ha visto, chi l'ha impressionato di più? Beh, sinceramente in questa prima fase mi ha impressionato, non mi ha impressionato, mi avevano parlato molto bene di Accardo e ho avuto la conferma di questo ragazzo che ha prospettive veramente importanti, soprattutto perché mi ha dato l'impressione di notare che è un ragazzo che ha la testa sulle spalle, un professionista. Già maturo, insomma. Per me questo ragazzo ha tutte le qualità per cercare di fare veramente bene, per fare una carriera da professionista. Starà a lui, applicarsi in maniera corretta e sicuramente avrà molte carte a suo favore per una buona carriera. Ecco, mister, se dovessero arrivare a questi ritocchi, secondo lei qual è il traguardo per la Torre Sport Centrale? Non lo so, noi dobbiamo fare un buon campionato, dobbiamo cercare di accontentare le esigenze della tifoseria e della società e poi dopo staremo a vedere, perché adesso, come adesso, non conosciamo ancora le avversarie, anche se sulla carta sono tutte squadre blasonate, però a noi interessa fare la nostra bella figura e cercheremo di farla in tutte maniere. Certo, mister, un'ultimissima cosa, adesso, insomma, tornando anche alla partita di oggi con il latte dolce, e in che cosa, secondo lei, dovete migliorare dal punto di vista del gioco? Ma, sinceramente, con l'innesto di una prima punta che abbia personalità e forza, sicuramente molte cose si appianeranno, perché come possesso palla la squadra sicuramente avrà tutte le caratteristiche per farlo, perché ha gente di qualità, per cui ci manca un punto di riferimento in fase offensiva, che dia una mano quando noi costruiamo il gioco e che finalizzi quando noi riusciamo ad arrivare nei venti metri. Certo, certo. Benissimo, mister, noi la ringraziamo, le facciamo un grande in bocca al lupo per questa esperienza bis con la Torres e con l'esperienza veramente che possano arrivare i rinforzi tanto attesi che possiate prendervi le soddisfazioni nel campionato di Serie D. Vi ringrazio moltissimo. Grazie. Arrivederci. Grazie.